E' stata la benemerenza per elevati meriti al dottor Umberto Gnudi, ex primario del pronto soccorso, in prima linea nella lotta al covid e nella pericolosità dall'astenersi alla vaccinazione, a focalizzare il Consiglio Comunale di Pesero. Benemerenza che è stata approvata dopo l'ordine del giorno presentato in merito dal sindaco Matteo Ricci. Ha dimostrato competenza, capacità, spirito di squadra in una situazione del pronto soccorso di grande sottodimensionamento perché come sappiamo manca il personale, continua a mancare, ne manca sempre più e la vicenda purtroppo non si è chiusa bene, si è chiusa male. E io non credo che sia un medico che meriti una chiusura con la nostra città così negativa perché la città si è riconosciuta in un medico in prima linea, si è riconosciuta nella battaglia che lui ha fatto prima contro il covid, prima contro teonie novax pericolose. E credo che sia giustissimo che il Consiglio Comunale dia questa benemerenza al dottor Nudi. Una benemerenza approvata con 17 voti favorevoli, uno contrario e otto consiglieri di minoranza che si sono astenuti uscendo dall'aula al momento del voto. Questo perché è stata una benemerenza andata di traverso per diverse ragioni, da una presunta distinzione fra medici di serie A e di serie B alla necessità di un riconoscimento generale che scansi strumentalizzazioni politiche della vicenda Nudi. Se volevamo fare una cosa generica, generale, l'avamo già fatta, abbiamo fatto un murale all'ingresso dell'ospedale dedicato agli eroi della battaglia sanitaria e alle vittime del covid, l'avamo già fatta, non ne avevamo bisogno. Ogni benemerenza ha un nome e poi in questo caso, essendo una battaglia che non solo Nudi ha fatto, ma che ha fatto un comparto intero, la estendiamo. Qualche mese fa abbiamo dato riconoscimento a Luigi Cuoco, come se noi avessimo detto, no, a Luigi Cuoco no, a tutti gli amanti di Rossini del mondo, perché se no è discriminatorio nei confronti degli altri. O quando l'abbiamo data a Paolo Cevoli, è come se avessimo detto, no, a Paolo Cevoli no, la diamo a tutti i comici che in Italia si impegnano nel sociale. Che discorso è? Che discorso razionale è? Ricci ha fatto allusioni anche su schieramenti in favore della linea tenuta sulla vicenda Nudi dalla direttrice di Marche Nord, Maria Capalbo, o dall'assessore alla sanità a Saltamartini, ma chi si è astenuto al voto non si è astenuto dal fornire motivazioni. A noi non sta bene che il dottor Nudi venga strumentalizzato. L'unica motivazione che ci sta dietro a tutta questa sceneggiata che il sindaco sta facendo, alzando i toni e permettendosi di poterci insultare in tutti i modi, anche questa volta, anche questa volta dando buoni consigli, che in realtà sono degli sfottori e degli scherni, ma ormai siamo abituati, tanto il clima in quest'aula è questo. Purtroppo noi, a differenza del sindaco che in quest'aula praticamente non c'è mai, quando lui interviene noi lo ascoltiamo e lo ascoltiamo attentamente, anche perché abbiamo imparato che durante i suoi lunghi interventi, alla fine viene fuori anche la verità di quello che pensa. E la verità è venuta fuori perché chi ha ascoltato bene l'intervento del sindaco ha capito che al sindaco non interessa in nessun modo valorizzare la professionalità del primario, che tra l'altro non è in discussione in questo modo, ma è una pura strumentalizzazione personale per altri motivi suoi che sono stati chiariti benissimo dall'intervento stesso del sindaco. Per questo motivo io ritengo che non sia necessaria la presenza dei consiglieri comunali all'interno di quest'aula e uscirò dall'aula per il voto. Grazie.